musica 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 wow stavo per cadere stavo per cadere ah ma quando è che arriva i pacchi i giochi arriva la settimana quando vai a scuola mamma aspetta te non lo apre va bene mamma perché proprio quando andiamo a scuola è perché i corrieri lavorano quando i bambini vanno a scuola ma come avrei? musica 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 Grazie a tutti 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 Una carta è stata scartata Scartiamo l'altra Scartata la gatta Scartata è scartata è andato quasi forse wow che bella che bella wow ma sono oscurissimi questo è top ma sono della NYX sono della NYX professional makeup in nuovi foundation questi mi avete chiesto anche di fare una review questo è molto rosato questo è un po' che sta buona a mamma no devo provarli prima questo va bene per noi che è molto giallo molto giallo chissà questo è neutro bello adesso farò un bello story se glielo mostro farò un video sul suo canale guardateli i video ho guardato certi video mamma mia allora ragazzi stavo dicendo allora ragazze quindi praticamente vi volevo ringraziare prima di tutto perché intanto state venendo a vedere il mio nuovo blog che si chiama mammaspeciale.it praticamente è un blog che parla di della maternità però non solo di tante altre cose carinissime quindi venite a trovarci su mammaspeciale.it e di ogni giorno ogni giorno ci sarà un post nuovo ogni giorno e noi vi aspettiamo ah questo pezzo di video l'ho girato dopo questo è il mio nuovo colore di capelli che praticamente è più rosso perché lei mi vorrebbe tipo Ariel ma io ancora non ci arrivo a queste tenualità e ho preso un bellissimo copper e un biondo copper che a me piace tantissimo poi magari vi metterò qualche story a sole dove si vede meglio perché le luci di questi led sono molto freddi molto bianche quindi non si vede bene vogliamo salutare e le nostre amiche che diciamo? ciao al prossimo video non cate ciao 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 ciao